Io vengo dalla comunità di Tesei che è una comunità in Francia, una comunità monastica che è ecumenica, fratelli di varie tradizioni e internazionali e abbiamo la fortuna di accogliere tantissimi giovani che vengono per una settimana di preghiera, di vita convitaria, di riflessione sulla parola di Dio e poi tornano nella loro realtà. Cominciando a dargli fiducia, creare amicizia, capire le loro domande, vivere qualcosa insieme. Tesei vengono, partecipano con noi, vivono una preghiera, così le domande vengono e noi possiamo cercare di testimoniare la nostra fede. Io credo che il più importante è di far silenzio dentro di sé, di fermarsi un attimino per poter essere in grado di ascoltare la parola di Dio, ascoltare la voce di Dio che ci parla. Se non facciamo questo silenzio interiore, non penetra, penetra a noi. Ogni anno la comunità di Tesei prepara un grande incontro di giovani nel città europeo. Quest'anno si trova a Torino. È un anno più difficile, ma comunque aspettiamo migliaia di giovani di tutta l'Europa e speriamo che ci saranno anche tanti italiani che vengono per questi 4-5 giorni di preghiera e di vita insieme.